avete fatto sembrare tutto facile 3 a 0 praticamente Sora non è riuscita a giocare merito vostro? Merito nostro che ci siamo preparati molto bene durante la settimana per affrontare al meglio questa partita loro sembravano un po' tesi siamo stati bravi a tenerli a bada soprattutto quando stavano crescendo l'uscita di Tamburo ci ha aiutati parecchio alla fine ne siamo venuti fuori i vincenti nei primi due set sei stato imprendibile poi sei calato un po' però insomma va bene così beh è ovvio all'inizio dai il massimo poi cominciano a venire fuori tutti gli altri siamo una squadra che si aiuta diciamo l'opposto non è l'uomo che risolve sempre la situazione per fortuna mia tra Monza e Matera chi preferisci in finale? tra Monza e Matera sarà una bella sfida perché Monza ciocca in casa davanti al suo pubblico Matera ha ritrovato l'opposto chi preferisci? diciamo che forse preferisco Matera ma perché gioca fuori casa quindi speriamo bene grazie 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 grazie